il video appalha vorrei giocare senza aspettare? sì cosa? beh dobbiamo dividirci in due team Perché ti muovi e apri le braccia? Anche tu Perché abbracciami fratello No perché ci dobbiamo dividere? Non so perché ci dobbiamo dividere Per fare ognuno una cosa diversa Come andare? Industrial Ma Che classe è Marine Random Accetto la casualità Guarda dove andai? Dove sei? Ok sono fuori Io non riesco ad entrare Cioè ci sto provando ad entrare e portare ma non ci riesco Oddio Doviamo aprire la porta Ma sei tu? Ma quello sei tu? Eh sì Forza Jaffy Prova a prendere il mio castello se ce la fai Non avrai mai il mio castello Ma che cazzo dove fa? Come? Non hai capito? Siamo uno contro uno contro due castelli Tu devi fottermi la bandera e devo fottermi la tua Ah figlio di butti Cosa? Buono Cosa mi ha Cosa è successo? Bombardamento aereo bro Bombardamento aereo Lo tu hai bombardamento aereo però? Arrivo a prendere la tua fottuta bandiera di merda Volevi? Pensavi? Immaginavi? Perché ho sparato al tuo missile Mentre tu lo lanciavi Sì certo Tu vuolevi? Volevi? Pensavi Porco Dio Ma Cule che non moriva No 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 Cos'è sta maffa? Cosa mi vuol dire? Cosa scena? Sì Cato C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Mi lancia razzi Vuole capire come si cambia classe Anche Bu Questa pesa eh Lei dice Premere il tasto usa Per cambiare classe Ma qual è il tasto Uzza Uzza mato hai cambiato classe? no c'ho l'arma a tarma perchè tu hai due armi o no aia ti giuro non riesco a capire hold on you see ah così forse così cos'è che volevi fare scusa tu no non sei tu come faccio entrare nella mia base? ah così dove sei tu shen? chiede al razzo sei? pensavi? come va? merda oh ma quanto sei durato? yes ah cosa è successo? eh niente le variette mi uccidono ma cos'è il tasto use? non lo so quale neanche io ah te ne hai premuto è ok te ne hai premuto è? mhm chi è quello? è blue grint? non è shen? riusciremo mai a... no così apro la porta come la chiudo ma? è la madonna è la madonna you have died non sai cosa ha toshen? non sai cosa ha toshen? a ma cos'è? la stessa roba che sti... la stessa roba che stai usando tu Mastardo Quando c'è adesso stai? Uh, vittina ma dio caisto sono ricaduto in acqua tb che ti ho preso quasi ho chiuso la porta in tempo come non ti ho preso non lo so ma dentro della gente che mi cerca di colpire faccio prima fare il nostro aiuto dove sei? dove sei l'asposto? questo ci sei da te vorrei a 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 forse dovremmo cambiare mappa no? eh? mi sa eh però voglio fare un ultimo esperimento madonna! che è successo? mi hai sparato con quel cazzo di cannone in mezzo alla mappa malissimo malissimo dove sei? che non è base cosa sono ste mine? paura che mine! che mine! madonna! madonna! sono in rage mode! eh ma tu c'è il pompa! c'è già un filmino vado con la tua bandiera! no! ma mi sono... si! fotte la bandiera! ce la fa! vabbè ma non è giusto! yes! eeeh... cos'è questa? jump? that... that place! oh mio dio! yay! ok dai... è una stronzata magari fatta in tante gente ha senso è anche divertente così... ma quella sa dove cazzo fa? dai... disconnect qua no! california show me love get buzz let's get buffed up california throw it up get buzz let's get buffed up let's get buffed up